L'Eriti Club Pegli acquisisce questo spazio da gennaio 2017 e è una palestra che si occupa esclusivamente di sport da combattimento, quindi in particolar modo la savate e da quest'anno appunto la box. La palestra è attrezzata per praticare lo sport da combattimento sia a livello amatoriale che a livello agonistico, sia dilettantistico che professionistico. Nella savate box francese siamo già comunque in linea, siamo già come si dice oggi sul pezzo da tempo, quest'anno abbiamo fatto man bassa di medaglie vincendo argento ai mondiali, agli europei, 4 titoli italiani, una medaglia di bronzo al mondiale junior e siamo qualificati per i campionati d'Europa che arrivano adesso, sono alle porte in quanto si svolgono in Belgio dal 5 all'8 di ottobre. Per quanto riguarda la boxe, nasciamo adesso, quindi abbiamo bisogno di tempo, quindi molto lavoro, umiltà e piano piano i ragazzi promettenti direi che potranno anche loro togliersi delle soddisfazioni. Allenamenti differenziati, quindi dai più giovanissimi, dai giovani, quindi andando a mettere in rilievo l'aspetto ludico, per poi passare comunque a quelli un po' meno giovani, gli amatori e gli agonisti, ognuno con i propri spazi, ognuno col proprio, diciamo quasi personal, non usiamo un allenatore specifico per lui. A livello della savate box francese i primi appuntamenti, come dicevo prima, sono i campionati d'Europa, alla presenza dell'elite club pelli nella nazionale italiana di Savate, con tre atleti, che sono Giulia Puntozzini, Alberto Bozzolo e Clarissa Valieri. Per quanto riguarda la boxe, diciamo, iniziamo il nostro percorso organizzando una manifestazione il 25 di novembre, che tra l'altro prevede anche un incontro di due professionisti, uno genovese e uno francese, più vari incontri dilettantistici dando spazio ai giovani. Per chiudere ti chiedo, per chi volesse avvicinarsi a questo fantastico mondo, come può fare, come può contattarvi? Allora, o diciamo attraverso il social network, quindi con Facebook, tramite appunto sulla pagina della SD Elite Club Pegli, oppure il mio recapito telefonico, io sono il maestro Alessandro Zini e lo possono trovare appunto sui social. Allora, la palestra è aperta lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 18 e un quarto alle 22. La prima parte è dedicata al pugilato, la seconda parte alla box francese, però il ragazzo può fare sia uno che l'altro, insomma, diamo libera scelta all'atleta. In più, il sabato la palestra pomeriggio è aperta per poter comunque rifinire la preparazione per quel che riguarda l'attività agonistica.